Rai News 24 per tutta la Rai. Lei si è fermato a lungo con i familiari, ha portato l'abbraccio delle istituzioni. Questa tragedia è una ferita per tutto il Paese? Non c'è dubbio. Come si è visto nel corso di due alte funerali, questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l'Italia, che è unita in questo stato d'animo. E le parole vanno spesso in questa direzione, perché il Paese unito rende anche più forte e più efficace la severità per l'accertamento delle responsabilità, che vanno perseguite con rigore. Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel ponte. Anch'io l'ho percorso tante volte, anche di recente. È una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro Paese. È una tragedia inaccettabile. Anche per questo vi sono tre impegni che vanno adesso onorati. Quello di vicinanza ai familiari di chi ha perso la vita, ai feriti, alle famiglie che hanno dovuto lasciare le abitazioni, perché è in pericolo. L'impegno di un accertamento rigoroso e sollecito delle responsabilità. Il dovere di assicurare al nostro Paese la sicurezza delle strade e dei trasporti. Sono impegni dell'Italia intorno a Genova, ma per l'intero nostro Paese. Grazie.